In questo video chiariremo un principio scientifico metodologico della dinamica in classe per l'insorgenza di fenomeni appunto di disattenzione, distrazione, irritazione, tensioni, opposizione, paura, disgusto e quant'altro che annoveriamo diciamo nel concetto di negatività, la negatività in classe. Ecco una cosa importante che proveremo a sviluppare insieme è che ci sono due premesse scientifiche, una che è come dire la nostra dimensione umana non è come dire evocata soltanto agli aspetti razionali e intellettuali ma anche moltissimo emotivi e anche molto corporei. Abbiamo come tre cervelli, un cervello grossolano corporeo, un cervello limbico paleomammifero che è molto centro delle emozioni e poi abbiamo anche un cervello corticale, razionale, logico, morale e questo è trasversale a tutte le età, i bambini, gli adolescenti, gli adulti, i giovani e gli anziani. Per cui ecco questo principio come dice che la negatività, l'attenzione, l'opposizione non è soltanto di alcuni soggetti in particolare, quello che vengono chiamate le mele marce ma è trasversale a tutti noi umani, che abbiamo una natura variabile, siamo sia molto altruisti ma anche molto egoisti, molto positivi, costruttivi ma anche molto distruttivi e lo vediamo tutti i santi giorni. Per cui abbiamo questi tre cervelli come elemento scientifico al centro del nostro corso e poi tre comportamenti automatici che ne derivano, sempre su una via della neurobiologia come ce lo indica da 20 anni, per cui abbiamo un comportamento di impegno, un comportamento di attacco e fuga, aggressività e un comportamento di spegnimento. Quanti ragazzi, bimbi, adolescenti in classe sono spenti, sono tristi, sono chiusi, sono barricati, sono pietrificati. Ecco, questi comportamenti non sono né cattiveria né malattia ma sono fisiologia. Come insegnanti dobbiamo allargare la nostra area, diciamo, delle conoscenze e delle competenze scientifiche. Il corso, e concludo, aggiunge a questi presupposti scientifico concettuali una cassetta degli attrezzi che chiameremo la capacità negativa, la capacità di trasformare questi comportamenti. Per cui concludo dicendo appunto che sarà un corso teorico e pratico, pratico e teorico, proprio sugli aspetti scientifici ma anche sugli aspetti degli strumenti e delle tecniche che come insegnanti potrete adottare nella vostra classe.